perché è mancato Ezio Golino e quindi si scusa ma non è potuto arrivare e rientrare su Roma in giornata. Dunque, io mi sono preparata alcune cose per introdurre i relatori e parlarvi un po' di questo volume a partire anche dal titolo che è un po' capiamo se è un messaggio o se è una provocazione. Io sono molto contenta di essere qui oggi in questa sede milanese prestigiosa e questo volume io l'ho co-curato insieme ad un collega del Centro Studi di Politica internazionale che si chiama Sebastiano Ceschi. Io mi chiamo Petra Mezzetti e insieme al collega qui presente che sentiremo dopo Andrea Socchiero coordino un'area al CESPI su migrazioni internazionali e studi sullo sviluppo. Questo volume è stato pubblicato da un po' di mesi perché è uscito nel maggio del 2019. Lo abbiamo presentato a Roma e a Torino con dei focus diversi e quindi questa è la terza presentazione. Era prevista prima per fine febbraio e poi per marzo ma ovviamente il lockdown ci ha bloccati tutti e quindi per me è l'evento pubblico dopo l'incontro di Torino per cui il 24 febbraio con Piero Fassino facciamo questo incontro a Torino e poi da lì basta siamo andati solo online. Quindi è un piacere per me, è quasi un'emozione essere qui in un incontro pubblico. Quindi noi relatori quando parliamo qui immobili diciamo nella nostra posizione possiamo toglierci la mascherina. Voi manteletela, se noi ci muoviamo nella sala per qualsiasi motivo ce la rimetteremo. L'assenza di Piero Fassino che avrebbe concluso permetterà di avere un po' di tempo eventualmente per delle domande se ce ne saranno. Cerchiamo per le sette e mezza di chiudere l'incontro anche perché c'è chi deve ripartire per Roma direi 8,5 al massimo. Questo volume nasce all'interno di un'iniziativa che diverse fondazioni bancarie sotto legge da di Fondazione Cariplo hanno finanziato. Sono stati in particolare dei programmi paesi che hanno realizzato in due ondate di esperienza quinquennale. Quindi per un decennio abbiamo lavorato sul Senegal, tra Italia e Senegal e poi tra Italia e Burkina. E questi progetti paesi hanno visto la partecipazione anche della componente dei migranti su progetti tipicamente di cooperazione. Il cosviluppo, che è un po' il concetto che cerchiamo di sviscerare anche in chiave critica e perché sia anche rinnovato, è un'idea che si è sviluppata negli anni 70, soprattutto in ambito economico e sottointende proprio quello che la particella cum-co intende, ossia uno sviluppo reciproco tra nord e sud che in qualche modo include tra le varie componenti che possono concorrere allo sviluppo anche quella delle migrazioni dei migranti. Negli anni 80 poi, quindi una decode dopo e successivamente il cosviluppo assume soprattutto in Francia una connotazione che lega questo concetto in modo inflessibile alle migrazioni. E poi è soprattutto dopo l'anno 2003, diciamo, quando un rapporto della Banca Mondiale scopre che le rimesse, ossia i risparmi che i migranti inviano a casa superano in quantità l'aiuto pubblico allo sviluppo, che si parla di questo nesso tra migrazione e sviluppo anche nel mondo anglofono. Quindi qui noi cerchiamo di, in base a un'esperienza fatta sul campo, di ragionare sul cosviluppo in modo critico e costruttivo. L'idea è sì di ripartire dall'Africa per rifondare una cooperazione che forse va un po' poco di moda di questi tempi tra paesi, istituzioni, popoli. In questo volume, soprattutto la prima parte, che è la parte diciamo più teorica, se vogliamo, di riflessione, cerca di mettere in luce, per esempio nel primo capitolo, quanto la realtà africana sia complessa. E quindi quest'idea della non semplificazione, quando noi parliamo di cause profonde della migrazione, spesso diventa come una cronica, qualcosa che sottende non si sa bene cosa. Allora, questo capitolo è un capitolo che entra nel merito di che cosa significa oggi poter fare sviluppo con tutte le complessità del continente. Il secondo capitolo, per esempio, parla invece delle contraddizioni dell'integrazione e il terzo, diciamo, possibili vie di intervento per rilanciare uno dei pilastri che, diciamo, la politica europea in tema di migrazione, ossia le migrazioni legali, uno dei pilastri che è stato forse anche meno sviscerato e in qualche modo sfruttato in questi ultimi anni. Soprattutto oggi, quindi il volume è scritto prima ovviamente della pandemia, però questa pandemia ancora di più mette in crisi il nostro modello di sviluppo e di conseguenza anche una globalizzazione forse troppo sfrenata, una interdipendenza. Tuttavia, di fronte a questa contraddizione, cioè di fronte a, diciamo, un modello di sviluppo che entra in crisi, una globalizzazione che entra in crisi, oggi sembra che cooperare sia ancora più importante, sia proprio ancora più necessario, si pensi agli ambiti della sanità o quello ambientale. Dunque, dall'Africa si potrebbe ripartire e l'Africa non è una ovviamente, è complessa e al contempo è un continente dinamico e simbolicamente è un continente che può presentare anche modelli di sviluppo diversi e grandi, importanti esperienze di resilienza. È giusto voler ripartire da qui? Perché forse ce ne siamo anche un po' dimenticati. I migranti che ruolo possono giocare in questa partita? Alcune delle domande che mi piacerebbe discutere oggi con i relatori e che cerchiamo anche di riproporre nel volume, non si è forse voluto mettere troppa enfasi sul ruolo delle diaspore per fare sviluppo e cooperazione? E così facendo, questo approccio non ha forse sollevato altri attori più classici da un proprio impegno serio e importante? I migranti non devono e aspirano a giocare un ruolo attivo e politico proprio nei contesti dove risiedono? Le ONG, le associazioni del territorio, spesso criminalizzate in questi ultimi anni, non stanno forse subendo un attacco proprio per recidere un legame profondo con il territorio? E allora questa dimensione locale non è proprio questa che per il benessere delle comunità andrebbe maggiormente valorizzata? Come Cespi e personalmente ci sono due elementi che a me preme molto sottolineare per avanzare proprio una riflessione in questo ambito e rivitalizzare un pensiero critico intorno alla cooperazione e al tema migratorio e dell'integrazione? Il primo è che non si può in nessun ambito ridurre la complessità e il secondo punto è che forse bisogna smettere di fare politiche per i migranti, uscire da un'ottica etnicizzante per occuparsi di altre categorie, di donne, di giovani, di imprenditori, di professionisti, di disoccupati, di emarginati, di studenti e all'interno di queste categorie occuparsi di chi ha anche un background migratorio. Forse questo ci aiuterebbe, se le politiche fossero disegnate in modo diverso, anche a uscire da questa logica del noi e del voi che poi crea contraddizioni, problemi, eccetera. Ovviamente è un discorso diverso parlare di richiedenti asilo che invece sono una categoria con propri bisogni, eccetera. Quindi, come vi dicevo, io vi propongo qui oggi due panel di discussione che però potevano rappresentare anche un unico panel, quindi è due momenti ma che sono in un continuum. Il primo, dove si può parlare di più ma non solo, di Milano e quindi qui abbiamo Don Colmegna, presidente di Casa della Carità che per chi è di Milano quasi non ha bisogno di presentazioni perché né lui né la realtà di Casa della Carità comunque, per chi non lo sapesse, è una realtà che sul territorio fa accoglienza e cerca di farlo in modo innovativo. Monica Dragone, del Comune di Milano, dell'Ufficio della Cooperazione Internazionale che da più di vent'anni ci è capitato anche di farlo insieme e ragiona sui temi della cooperazione, del cosviluppo, dell'inclusione dei migranti nelle politiche locali e Emo Dughei che è presidente di Sunugal, un'associazione italo-senegalese che opera inizialmente a Milano ma poi che negli anni opera e ha operato in rete su tutto il territorio nazionale ed è anche l'ideatore di questo progetto alle porte di Milano che si chiama Centro Internazionale di Quartiere. Sottolineo che la sua presenza qui oggi non è perché è africano o non solo perché è africano per quanto ci riguarda Modu è una persona competente nell'ambito della cultura e dell'integrazione a Milano e successivamente presenterò gli altri relatori. Io quindi avevo pensato di iniziare con Don Colmenia ma Don Colmenia dà volentieri la parola a Monica e quindi Monica Dragone a te di dirci riflessioni anche tue ovviamente a partire da questo volume ma ovviamente non solo dal contesto locale ma non solo cosa ci puoi apportare dalla tua esperienza. Intanto buonasera a tutti è un piacere trovarsi di persona che in questi mesi devo dire di avere abbastanza sofferto la solitudine o i contatti solo online a dimostrazione del fatto che sì, siamo globalizzati ma rimaniamo comunque persone forse questa è sempre la cosa più importante rimaniamo degli individui che hanno anche bisogno di relazioni e di presenza fisica per fare delle cose insieme e per scambiarsi delle idee non solo a distanza e per e per riuscire insomma a creare poi delle sinergie. Ecco il cosviluppo io credo appunto in base all'esperienza mia ma sia personale ma soprattutto della mia amministrazione che in questa che nella cooperazione allo sviluppo ci ha sempre creduto che è stato uno degli enti locali è stato il primo in Italia come ben sa Marco che ha fondato ha fondato l'ufficio cooperazione a Milano è stata la prima realtà locale che in Italia si è posta il problema di poter fare cooperazione come anche come ente locale non voglio rivangare tutti i passaggi ma lo sapete benissimo la cooperazione è partita un po' più in Italia in chiave missionaria poi in chiave laica dell'associazionismo gli enti locali sono arrivati e dopo e così poi tanti altri soggetti che adesso finalmente la legge della cooperazione riconosce legge nazionale che non ci ha dato tantissimo la riforma e che ha dato dignità diciamo un po' a tutti compresi appunto gli enti locali ma anche le diaspora e le associazioni migranti non che ha non voglio dimenticarlo perché è molto importante le ONG ovviamente sono sempre state interlocutori fondamentali per la cooperazione italiana ma anche il ruolo del privato che non è secondario e che anche in una operazione in un programma perché non è un progetto quello che non sono progetti quelli che le fondazioni per Africa hanno fatto prima in Senegal e poi in Burkina ma sono dei veri e propri programmi io penso che Milano c'ha proprio questa cosa nel suo statuto che che dice che Milano favorisce la cooperazione e le relazioni con gli enti omologhi per lo sviluppo reciproco secondo me questa la chiave della reciprocità è la cosa fondamentale per cui per un ente locale è un po' più facile porsi sullo stesso piano anziché nelle logiche diciamo ormai spero superate da 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 qualsiasi parte di chi aiuta chi ha aiutato dove li aiutiamo aiutiamoli a casa loro cose di questo genere proprio perché si occupa di cose molto concrete e proprio perché deve rispondere a una cittadinanza una cittadinanza che per fortuna a Milano è molto ricca e che è fatta anche di associazionismo migrante che ci ha sollecitato a fare un percorso il percorso è nato su sollecitazione di associazioni ce lo ricordiamo ancora tutti per rinverdire il gemellaggio tra Milano e Dakar quindi è partito dall'Africa questo è un altro dato che ci che ci incoraggia e che poi è andato molto avanti con un programma articolato supportato dall'apporto anche scientifico perché come si può dire la buona creanza dell'istituzione è la valorizzazione delle eccellenze delle forze e delle volontà del territorio e la sfida di una città ma anche non solo di una Milano ma anche di una città piccola mi viene in mente altri esempi virtuosi di rinnovamento di innovazione è proprio quella di di saper valorizzare quello che è l'apporto delle università della ricerca l'apporto dell'associazionismo l'apporto di tutte le istanze che possono contribuire per andare dove però perché c'è sempre questa idea di sviluppo che pensiamo sempre di come si può dire di avere tutti la stessa la stessa visione non è tanto così non è tanto così lo dimostrano purtroppo scelte che si continuano a fare a tanti livelli più grandi di noi e che non incoraggiano tra virgolette quello che l'agenda 20 e 30 dice che tutti noi dovremmo fare a cui tutti noi possiamo contribuire come individui come istituzioni come organizzazioni internazionali quindi la prima cosa secondo me è proprio il confronto su che cosa si intende per sviluppo e io penso che su questo appunto ci siano vari punti di vista che vanno rispettati che vanno discussi e che non vanno mai dimenticati la seconda cosa è avere sempre molto presenti secondo me nel sviluppo in questa logica che parla di andiamo avanti cerchiamo di andare avanti insieme non escludendo questo è un'altra cosa che se lo si dice lo si scrive non lasciamo nessuno indietro poi però bisogna vedere le scelte economiche le scelte di chiusuro d'apertura delle città dei servizi delle opportunità e anche lì andiamo su terreni sempre molto difficili quindi capire anche molto bene quale può essere il proprio ruolo le proprie possibilità e il proprio contributo e lo dico come ente locale che quindi poi si trova nonostante diciamo una visione abbastanza che cerca di essere inclusiva nei propri programmi nei propri servizi sia per quanto riguarda quello che si fa in città sia nelle relazioni con le altre città del mondo cercando di metterle tra l'altro tutte un po' sullo stesso sullo stesso piano di dignità che è importante un altro salto che abbiamo cercato di fare come Milano e anziché dividere le nostre relazioni con e le città del nord e le città del sud a dire noi ci relazioniamo con le città ognuno ha i suoi problemi magari con chiavi ovviamente e dimensioni diverse però siamo tutte città vediamo di lavorare insieme cerchiamo di lavorare insieme per andare in certe direzioni che cercano di risolvere dei problemi molto concreti l'altra cosa che le città hanno è la concretezza certo parliamo di cambio climatico e migrazioni parliamo di migrazioni invece sicurezza alimentare sono tutti temi giganteschi di una complessità incredibile ma tutti interconnessi poi però le città le città poi hanno a che fare con la concretezza ed è questo il nostro livello ed è questo l'indirizzo insomma la strada che abbiamo cercato di percorrere e che continuiamo a percorrere con le possibilità che abbiamo che cosa vuol dire che uno ha comunque sopra di sé un inquadramento legislativo che ti permette e ti consente di fare certe cose o non altre che ha degli indirizzi politici che magari sono diversi da amministrazioni pensate noi e la regione ad esempio abbiamo dei punti di vista molto diversi sia sulla migrazione che sull'accoglienza che sulla multiculturalità e queste differenze ovviamente hanno dei pesi abbiamo ovviamente delle come si può dire limiti anche oggettivi perché purtroppo molto spesso il cittadino l'associazione l'ente si rivolge all'istituzione pensando che abbia non solo le risposte in tasca ma disponibilità economica possa dire sì a tantissime belle proposte ma non è così le risorse purtroppo sono sempre più limitate e quindi anche quello ci costringe magari a diventare ancora di più interlocutori assieme a tutti gli altri ad esempio per accedere a finanziamenti per poter fare cooperazione perché la cooperazione non è la prima cosa che c'è scritta nel come si può dire nel testo unico degli enti locali è un'opportunità secondo me è un'opportunità fondamentale e tutte le città che fanno cooperazione lo sanno ma è un'opportunità non è affatto è un optional è un optional non dovrebbe essere così pensando a un mondo globale ma è così questo è per dire che in un'ottica di co-sviluppo l'importante ovviamente è una logica di partenariato sia sul proprio territorio se si vuole lavorare con gli altri e cercare questa reciprocità altrove l'altra cosa e qua finisco perché mi vengono in mente diecimila parentesi è la trasversalità allora non si può più parlare di migrazione sono tanti migrazioni che riguardano anche noi guardiamoci a specchio ci sono i nostri ragazzi che vanno a studiare all'estero ogni nord ha il suo sud e noi siamo al sud di tante realtà dove l'economia sembra funzionare meglio dove i giovani vengono valorizzati meglio eccetera eccetera quindi questa è la prima cosa l'altra cosa è la trasversalità quindi di questa di questo filone che può riguardare e riguarda tutto dall'educazione alle scuole alla cittadinanza non dimentichiamoci tutta la questione dei diritti è la questione del voto siamo andati a votare ci sono tanti io li chiamo i cittadini che non hanno il diritto di voto che provengono magari da altri paesi che sono qua da tanti anni e potrei andare avanti con tantissimi esempi questa trasversalità per cui una delle ultime tra virgolette operazioni opportunità che ci è stata data tra l'altro da un'organizzazione internazionale che stiamo affrontando insieme a CESPI stiamo avviando un percorso proprio sulla creazione di reti tra città per adesso siamo poche città per parlare appunto di mainstreaming migration di come la migrazione può essere può essere lo è trasversale e come quindi il discorso migratorio è una componente di tutte le cose che ad esempio una città deve affrontare l'altra cosa quando si parla di cooperazione io insisto la cooperazione è una faccia perché è la faccia delle relazioni con gli altri con le altre città con gli altri partner parliamo di quello che facciamo qua l'educazione alla cittadinanza globale per me vale ancora di più perché la prima cosa la prima sfida che è culturale che è nel nostro linguaggio nel nostro modo di porci nel confronto del migrante ma anch'io sono migrante quando vado a studiare le migrazioni sono i fenomeni che molto spesso hanno delle circolarità perché si parte ma magari si torna bisogna vedere cosa succede nel percorso la complessità su questo è enorme e il linguaggio e l'approccio è fondamentale quale cultura c'è sotto il concetto di sviluppo quale visione ma anche quale mistificazione c'è della migrazione su cui purtroppo i media vanno a nozze e l'unica cosa che ci dicono a me a me fa impressione cioè noi abbiamo lavorato in questi ultimi anni con un bellissimo progetto con la Tunisia e il Marocco che stiamo cercando di riproporre e mantenere l'unica cosa che si legge sui giornali della Tunisia è che finalmente abbiamo firmato il protocollo per avere più rientri sì va bene e cioè vogliamo parlare anche di altre cose o l'obiettivo è semplicemente no? rimandare qualcuno a casa ecco queste cose a me fanno molta impressione e io penso invece che la direzione che la mia amministrazione ha preso e sta continuando a prendere sia totalmente differente e molto più per tentativi in base alle possibilità che ci vengono date per costruire assieme a tutti associazioni migranti ma anche tutti gli altri come si può dire delle città più sostenibili e più inclusive questo è il nostro obiettivo senza dimenticare appunto che la cooperazione che l'educazione alla cittadinanza globale e quindi a un mondo globalizzato e in cui ci ritroviamo ad avere gli stessi problemi possiamo talvolta studiare delle soluzioni e delle innovazioni insieme sia la cosa più importante quindi io credo che nonostante tutta la come si può dire anche il fango che hanno buttato sull'associazionismo invece delle ONG sul percorso migratorio su come si può dire questi slanci che ci sono stati siano tra virgolette un po' scesi di tono o addirittura demonizzati io penso che non bisogna assolutamente mollare la presa e anzi valorizzare tutto quello che si può delle ottime esperienze che abbiamo e che continuano ad esserci in città faccio solo un esempio del Migrant Tour perché qua siamo vicino a Paolo Sarpi un esempio molto semplice per dire che cooperazione e sviluppo e migrazioni per me è anche questo e quindi sono i percorsi nei luoghi delle città è una rete delle città del Migrant Tour delle città che hanno questi percorsi nelle zone diciamo dove nelle zone delle città assegnate da percorsi migratori non solo multietnici e contemporanei ma anche del passato in cui delle guide migranti che quindi hanno come si può dire uno statuto professionale di guida migrante quindi non sono formate per far vedere i monumenti o altre cose ma proprio per mostrare un lato della città che magari alcuni vogliono approfondire altri non conoscono ed è una riappropriazione di un territorio per far vedere che migranti lo erano gli italiani migranti magari sono quelli che adesso arrivano le città si trasformano diventano migliori e hanno delle convivenze talvolta impreviste inedite e che ti portano avanti questo secondo me sono esempi importanti di di un tessuto cittadino sociale che grazie ai percorsi migratori diventa migliore diventa più bello e va in direzione di una sostenibilità finisco finito grazie Monica mi sembra che esempi concreti dimostrino in fondo come si può fare anche cultura in questo modo nelle città si fa cultura attraverso un coinvolgimento anche di allora do la parola Modu Gay e Don Colmegna lo faccio chiudere questo primo panel Modu una domanda a cui se vuoi puoi rispondere è il tuo punto di vista se il sviluppo in effetti si è incentrato in modo esagerato sul ruolo delle diaspore questo se hai voglia invece di raccontare anche brevemente qual è la tua esperienza a partire anche da un tuo impegno che è stato inizialmente molto rivolto all'Africa e poi in questi ultimi anni si è sempre più spostato non che l'Africa non ci sia nel tuo impegno nelle attività che porti avanti ma che si è molto spostato sulla città in una sfida che tu hai fatto nel creare un centro in una periferia non tra virgolette fighetta perché è una periferia molto reale Modù per chi non lo conosce per chi non conosce Cascina Casotello ha creato questo centro in quella zona che si chiama Porto di Mare dove a un certo punto nella Milano Sud la città finisce proprio dopo di lui ci sono dei campi e poi l'autostrada sostanzialmente ed è una periferia abbastanza tosta insomma per Milano bene grazie non è facile rispondere alla domanda sul cosviluppo se si è troppo centrato su le giaspore o no io penso a un certo punto da come hai raccontato da come hai parlato forse abbiamo perso o non è molto chiaro a tutti il cosviluppo io penso che quando parliamo di cosviluppo è giusto quello che diciamo sempre coinvolgere le giaspore io dico sempre che le giaspore davvero possono creare rafforzare i ponti tra i paesi forse bisogna davvero quando non so Monica che parlava di educazione alla cittadinanza io aggiungo anche educazione alla cooperazione al rapporto tra il nord e il sud quando oggi vediamo diciamo che non ti nascondiamo le guerre tra virgolette dei giganti sull'accapparamento di terre o di territori o su sviluppare dei progetti economici in Africa in Asia e altrove io penso che le giaspore anche lì possono dare molto ma bisogna anche lì sapere che le giaspore o la diaspora non ha tutte le competenze ogni offelier fa il suo mestiere quindi davvero diventa importante saper scegliere saper rapportarsi relazionarsi con le giaspore saper riconoscere le competenze delle giaspore quando parlo di educazione avevo segnato cosa sanno le amministrazioni o cosa sanno i famosi baiari delle competenze delle giaspore io so che Cespi ha fatto una serie di ricerche tra la diaspora africana cercando delle competenze hanno creato anche un sito se non mi ricordo cercando davvero le competenze quindi diventa importante anche la diaspora se ha voglia se ha voglia perché non è detto che la diaspora debba lavorare per forza sul cosviluppo o deve vestirsi con il ruolo del cosviluppo no chi l'ha detto non è detto che io Modu o Besmir o X devo lavorare proprio no cioè come hai detto io a un certo punto ho deciso anche di cambiare modo di fare cooperazione poi piano piano lo vedrete perché mi sono reso conto anche degli errori fatti da me io a un certo punto ho guardato il mio staff in Senegal ho detto io sono fallito su molte cose perché sono partito con il discorso di Thomas Sankara che ci diceva che l'aiuto deve aiutare a uccidere l'aiuto non all'aiuto che crea una mentalità d'assistito se io devo venire qui davvero che ognuno mi chiede mi chiede e non riesco davvero a mettere un motore serio che crea lo sviluppo nel mio territorio io gli dico sono fallito allora dico fermi ragazzi fermiamoci e ci siamo fermati e piano piano oggi con IPSIA posso dire che stiamo facendo un ottimo lavoro in questi cinque anni io ho visto un cambiamento da così a così lavorando con migranti di ritorno lavorando anche con imprenditori piccoli medie imprese locali che hanno voglia di creare davvero lo sviluppo sul territorio invece se la cooperazione il cosviluppo deve essere davvero prendo i soldi dal comune di Milano dalla fondazione X e lo mando a creare il pozzo continuamente vuol dire che ogni volta che io passo quando ci fai il pozzo quando lo ZOE X o la ZOE X ha i fondi propri per poter creare il proprio pozzo oggi se andiamo nella zona nelle prime aree di intervento nostro ci sono più pozzi fatti degli altri non della cooperazione perché grazie davvero all'aiuto del comune di Milano che ha creduto in primis in questa intenzione abbiamo fatto vedere che cambiare è possibile oggi ho visto gli investimenti superiori a tutto quello che noi abbiamo fatto in questi anni io continuo a dire che noi come Sunnugal nel nostro territorio come ci andai con un giornalista gli feci vedere davvero quello che abbiamo fatto siamo partiti alle 8 alle 2 mi ha detto fermati perché abbiamo fatto un investimento che supera 3 milioni di euro toccabili palpabili con mano non sono racconti lui era andato in Senegal per vedere dei progetti che faticava l'ho detto vieni con me ti faccio vedere cosa abbiamo fatto molti di voi pensano che noi siamo bravi a comunicare non è vero quello che abbiamo fatto recentemente soprattutto con Ipsia davvero non ci basta un mese con lo staff della RAI per raccontare realmente cosa sta succedendo dove i privati i ex diaspora migranti di ritorno davvero stanno lavorando senza chiedere più un soldo nel comune di Milano né a Ipsia ma noi li stiamo accompagnando li stiamo facendo vedere eccetera eccetera allora diventa davvero importante fare un lavoro quando parliamo di cosviluppo veramente anche con i nostri comuni là perché la diaspora non deve essere solo il banco matvagante delle rimesse ma io devo poter tornare nel mio comune nella mia regione creare un confronto reale con il comune con la regione politicamente la diaspora deve superare il ruolo di banco matvagante ma deve diventare un attore politico di cambiamento sul territorio quando parliamo dell'agenda 2030 eccetera eccetera ma sappiamo anche e non ci dobbiamo nascondere che molti politici molti che lavorano lì sono incompetenti anche lì allora ritorno a dire ogni offre le sue mestiere a me mi chiesero di candidarmi nel mio comune in Senegal ma tu lo puoi vincere dico no perché io non sono lì perché devo dire che io sono sindaco sono no non è questa l'intenzione l'intenzione è quella di migliorare il territorio allora selezioniamo scegliamo tra i candidati guardiamo chi è competente veramente e lo appoggiamo e creiamo un programma con lui che sia di destra che di sinistra ma che pensi davvero l'interesse dei cittadini e così abbiamo fatto in due comuni abbiamo cambiato i sindaci e uno dei nostri sindaci davvero ha portato investimenti che superano due miliardi di euro quando noi siamo partiti con sole acqua e terra Marco Grande è lì e Monica qui da quello e lui ha copiato ha capito quanto era importante ha portato dei grandi investitori che oggi nell'area davvero ha portato un investimento che supera due milioni di come si chiama due miliardi di euro su sistema solare che il nostro presidente della Repubblica del Senegal è andato a inaugurare a raccontare la rava la fava ma questo nasce davvero dal cosviluppo perché come voi dite apposta di darti il pesce tutti i giorni ti insegno a pescare non abbiamo insegnato niente abbiamo fatto semplicemente fatto vedere il nostro sindaco che si può fare e da lì con i toscani ancora oggi il nostro sindaco lavora con una rete toscana e dove ogni anno o ogni due anni portano tre o quattro portando sistemi solari oggi una delle imprese toscane sta cercando di mettere imprese là in Senegal con dei privati senegalesi non portando dono aiutiamoli a casa loro ma lavoriamo con loro a casa loro perché sappiamo che l'Europa che se ne dica ha bisogno veramente dall'Africa ha bisogno di collaborare realmente con l'Africa allora bisogna farlo davvero con competenza non con il senso di solidarietà buttiamo soldi così quindi bisogna creare imprese bisogna creare qualcosa che aiuti loro che aiuti noi qui perché bisogna poter rispondere sempre a quelli che dicono aiutiamoli a casa loro davvero che noi vi stiamo aiutando a casa vostra quello che sta succedendo in Mali non ci dobbiamo nascondere davvero su queste tragedie che ci raccontano i giornalisti che dicono solo quello che gli interessa o gli interessa chi li governa ma sappiamo che ci sono sotto suolo di quei paesi miniere d'oro di petrolio perché la Francia ha attaccato direttamente la Libia perché Gaddafi che se ne dica aveva il cuore l'Africa aiutava il suo popolo ha aiutato molti africani che va detto Gaddafi che se ne dica ha fatto tante cose buone per l'Africa e per gli africani quindi questo dobbiamo riconoscere anche se ci dicono dittatore e qualche però quella che ha fatto delle cose tante cose in cui non sono qua a elencare perché oggi parliamo di cosviluppo termino sulla diaspora sempre dicendo che doveroso da parte nostra adesso sia in Italia che in Europa davvero lavorare tra noi in quanto diaspora facendo valere le nostre competenze perché oggi qua in Italia quando ci dicono mandiamole a casa loro siamo più di 3 milioni o 5 milioni di stranieri che vivono qui lavorano qui e contribuiscono allo sviluppo di questo paese e contribuiscono allo sviluppo del paese d'origine che hanno superato i soldi della cooperazione questo deve essere valorizzato realmente non deve essere chiacchiere parole noi dobbiamo essere capaci davvero di raccontarlo realmente chiedere chi è capace di comunicare davvero di comunicare con noi ciò altrimenti lascio la Brambilla dal bar di turno continuo a dirti torna a casa tua o ti chiamo a casa tua invece io sto facendo sia qui che là che posso aiutare davvero le imprese europei a lavorare con le imprese straniere o senegalesi albanesi cinesi e colchile allora doveroso da parte nostra davvero creare una rete nazionale e una rete internazionale per davvero poter lavorare con l'amministrazione qui perché anche la politica italiana cosa sa cosa sa il sindaco X davvero delle competenze delle capacità del ruolo che possono avere i stranieri che vivono nel proprio territorio e cosa possono fare tra le sue imprese come abbiamo visto un bergamasco leghista che è partito da Bergamo è andato in Senegal a lavorare a mettere in presa eppure nel bergamasco dice aiutiamo la casa loro questo il TG regionale ce lo racconta i politici della regione Lombardia ce lo dicono noi dobbiamo essere capaci di evidenziare davvero tutti quegli aspetti termino sul CIC dicendo che cambiare è possibile ritorno sul discorso di Thomas Sankara il CIC nasce semplicemente perché eravamo alla fabbrica dal vapore dopo dieci anni abbiamo capito che c'è una potenzialità c'è un interesse dei giovani e delle comunità che hanno voglia davvero di creare hanno voglia di aggregare hanno voglia davvero di lavorare sul tema dell'integrazione e dell'interazione ma spesso gli mancava e spazio ecco perché noi abbiamo pensato io avevo pensato inizialmente non andare al CIC e ho parlato con un'amica che era disponibile a mettere 200.000 euro per trovare uno spazio di 400 metri perché nella mia testa ho detto alla fabbrica del vapore siamo lì abbiamo uno spazio di 100 metri era piccolo per me allora io dissi alla dottoressa ma come possiamo fare davvero per creare un centro aperto polifunzionale per dare la possibilità ai giovani parlo dei giovani italiani anche perché quando parliamo del CIC quando parliamo della fabbrica del vapore noi aiutiamo più italiani che stranieri questo va detto ma con questo possiamo davvero dare la possibilità a questi giovani che sono in cerca di luoghi di aggregazione perché il comune sappiamo che ha una macchina pesante difficile per poterti dare lo spazio e la regione idem gli spazi pubblici sono difficili da gestire sappiamo anche come dico sempre che i giovani hanno spesso poche responsabilità quindi essendo un privato noi possiamo davvero gestirli ecco perché abbiamo scelto dalla fabbrica del vapore di andare là facendo una sfida che tutti ci dicevano no non andate non andate non andate abbiamo deciso di andarci oggi davvero devo dire se fosse ieri avrei scelto di nuovo andare lì perché con fatica abbiamo visto i risultati l'altro giorno c'era una serata sardo-curdo c'era lo spettacolo dei bambini contemporaneamente c'era un altro che parlava di agricoltura biologica e c'era un coro che cantava quattro spazi occupati contemporaneamente un'associazione che faceva la riunione tutti con aree diverse allora diventa importante creare dei luoghi di aggregazione perché i sardi incontrano i senegalesi i senegalesi incontrano i napoletani e idem allora sì che davvero il dialogo e lo sviluppo può esserci un giorno il nostro amico Besmir portò si chiudo fece l'ultimo evento che io disse a tutti gli africani voi dovete imparare dal nostro amico albanese avete visto il programma che ha fatto davvero un programma magnifico dalla fotografia alla conferenza al teatro alla musica portando un chef dall'Albania davvero sembrava il primo della scala talmente elegante altro che tambure e couscous mi fermo qua grazie grazie Modu quindi il tema sicuramente delle competenze da valorizzare e questa abilità di in qualche modo tirare altri attori con altre tante competenze per fare laddove si può uno sviluppo che abbia un impatto perché come dire finché si fanno i pozzi forse lo sviluppo è ancora troppo ridotto o comunque non ha un impatto per cui le cose hanno un cambiamento diciamo molto significativo però tu adesso ci raccontavi di come un'abilità di una diaspora competente è anche quella di mettere insieme attori molto competenti che abbiano voglia di investire e che in qualche modo facciano delle azioni che abbiano un impatto per cui il cambiamento si vede e dall'altra parte su Milano un'attività che riesce a facendo cultura facendo interazione a offrire delle opportunità anche per giovani italiani Don Colmegna sulla su quella che è diciamo l'attività su cui Casa della Carità si impegna ossia sull'accoglienza laddove negli ultimi mesi ma che ormai diventano quasi anche anni abbiamo una spirale in qualche modo che tende a criminalizzare tutti coloro che si occupano di accoglienza si occupano di integrazione i migranti in primis ma tutti coloro che hanno a che fare con la migrazione quale può essere un approccio innovativo per continuare a fare accoglienza nel modo in cui voi lo state mi sembra sperimentando perché anche in questo caso abbia come dire un significato abbia un impatto sulla città sì grazie ma devo dire che il libro con Simone l'abbiamo studiato e non lo dico come una battuta perché la questione che pone è una questione forte perché adesso si sta riciclando una politica di accoglienza che sostanzialmente è legata all'emergenza si rende i migranti sono migranti tutti uguali sono poveri si aiutano non c'è una capacità culturale di affrontare il problema noi la questione Africa l'abbiamo già posta anche l'anno scorso perché ci rendiamo conto della ricchezza della domanda dell'interazione cosa sta succedendo in Africa una serie di operatori qui non sentono neanche il bisogno di ripensare all'Africa perché li abbiamo ridentificati tutti come poveretti facciamo le politiche per loro e non ragionando insieme questo crea evidentemente un divario molto un gap assolutamente per cui si moltiplicheranno le situazioni il libro mi interessa perché presenta e pone il problema non solo della diaspora ma del migrante come attore strategico su entrambi i poli della migrazione sia come diaspero sia come tra l'altro i migranti di oggi tutta la rilettura che dovremmo fare siamo travolti dalla cultura pseudo di sicurezza per cui addirittura diventano un polo di pericolo ci sono le situazioni segnate sostanzialmente dall'emergenza si riesce a fare un salto di qualità l'operazione culturale anche noi lo dicevamo l'anno scorso ma credo che sia importante quando ragioniamo del Seneca non altro ma l'esperienza della letteratura della cultura della poesia della ricchezza anche di popolo che c'è totalmente questo non ritorna lo dico anche nei contesti culturali di scuola se si fa il tema sui migranti e come fare a reagire al problema della sicurezza se voi andate a dirlo ai ragazzini adesso nell'educazione civica che dopo magari hanno in classe ma c'è un'estraneità voi parlate nel libro della doppia assenza e mi è piaciuta questa definizione orfano di un senso di casa privi di un letto addirittura una nuova forma di onless e del resto è così quello che succede adesso a Lampedusa là negli hub altro a tutti i livelli è drammatico a questo punto di vista non c'è una rivettura una sollecitazione di renderlo fortemente significativo per renderlo partecipato al nostro discorso di cittadinanza siamo qui ancora a ragionare sui ussoli sull'altro sull'educazione di fronte a un processo che va avanti totalmente e oggi non si ha più il coraggio di affrontarlo perché anche adesso ho visto che c'è Pierfrancesco ma poi ci dirà lui ma anche il rinnovamento di Dublino cambiamento di Dublino e però è fatto per chi per i richiedenti asilo che è una percentuale hanno reso i migranti economici sta cambiando totalmente la situazione dovrebbe andare a rileggere cosa significa questo nel libro si parla della Libia come un nuovo olocausto qualche volta si dice pesantemente noi immagazziniamo questa descrizione e poi non facciamo riscattare una politica che è capace di rendersi culturale la parola cultura non vuol dire un'evasione dalla politica è capacità di rendere politica questa cosa la misura in cui non portiamo questa radicalità nella riflessione politica e anche il terzo settore viene imbrigliato nelle formule di assistenza questo chiede che si liberi questo spazio all'interno dei comuni come capacità culturale soprattutto le grandi città non è che va tanto bene il rapporto con la cooperazione internazionale che vedo Marco ne abbiamo lavorato tantissimo però questo non entra dentro come asse strategico di una politica di un comune sulla politica di ospitalità e di condivisione e di sviluppo sembra di essere un accanto ingropiato nell'aiuto del fare progetti di aiuto e di sostegno questo ormai va lasciato alle spalle abbiamo bisogno di investire molto in cultura in orientamenti in progetti poi sull'Africa che certamente l'anno scorso abbiamo tentato di riflettere di ragionare che arriverà bisogna parlare di Euro-Africa in questo momento il problema demografico sostanzialmente incide pesantemente e tutte le letture anche sociologiche che vengono fatte che scappano segnati dalla povertà e dall'altro ma di fatto avrebbe bisogno di un intervento molto preciso di ricerca di orientamento di che cosa si muoviglia si sta muovendo di fronte al problema dell'acqua al problema delle miniere il problema della globalizzazione come fenomeno complesso e ridurre il tema della cooperazione questo è lo cosviluppo è proprio un termine importante significativo perché a rendere il problema della cooperazione con un fettore o di assistenza dove la mentalità assistenzialistica viene ancora presa come capisaldo di logiche di intervento oppure semplicemente con un'altra lettura che è quella del ragionare oppure sia criminalizzati o andare sul dramma totale sembra che quello che sta succedendo in Africa sfugge alla coscienza culturale noi stessi come Casa Carità dico tra l'altro in questo periodo della pandemia che rimette in discussione radicalmente i modi di ospitalità siamo lì ogni giorno adesso c'è misurare la febbre vedere se c'è qualcuno che c'è febbre cambia totalmente la comunità rispetto a questo però l'ottica ancora forte non si fa più politiche per basta con questa logica dove il tema della sicurezza imbriglia tenalmente per cui diventa non un agente di sviluppo ma un agente capro e spiatorio di tutti i processi lo dico non nel senso per fare quando abbiamo letto continuamente che bisogna ragionare non solo sui corridoi umanitari ma sul problema di vedere come c'è una politica di intervento di come ragionare sulla politica non dei flussi come se fossero pacchetti da reinserire cambia la cultura profondamente e qui viene fuori un paradigma di cambiamento culturale molto forte abbiamo bisogno di un concetto che sta cambiando la questione anche antropologica rispetto a questo forse non abbiamo ancora capito che la finanza l'ha capito nei suoi livelli sui livelli multinazionali noi siamo qui rimpiccioliti dentro nella logica semplicemente dell'investimento singolo rendendoli poveri da aiutare lo dice uno che vive dentro in questo tipo di logica e non ne può più nella dinamica ma questo deve entrare nella dinamica formativa nella dinamica degli apprendimenti nelle scuole popolari diffuse di partecipazione credo che sia il momento di farlo soprattutto in questo momento perché altrimenti la pesantezza dell'ottica per rendere il migrante comunque un problema o di esaltare le espressioni mitiche che ci sono di alcuni bravi eroi per prendere la cittadinanza devono diventare eroi devono salvare qualcuno oppure devono giocare bene a calcio visto che fanno in fretta anche per la lezione italiana per qualcuno e poi diventa sostanzialmente questo il tema abbiamo bisogno di investire nei processi di formazione scolastica negli apprendimenti curricolari l'anno scorso l'abbiamo fatto la poesia di Soinca ci interessa come ci interessa anche altro non va tradotto semplicemente questo vale per capire tutti stiamo ragionando adesso del problema ecologico dell'ecologia integrale ma questo riguarda il problema dell'acqua il problema si diceva dei depositi di giacimento delle politiche anche che ci sono e allora la cooperazione internazionale è una cooperazione che deve rimettere dentro una presa di coscienza diversa ha bisogno di scelte politiche anche amministrative per cui i gesti anche simbolici servono guai se non ci fossero i programmi guai se non ci fossero ma per capitalizzare un consenso che abbassa il livello del migrante come non attore di cosviluppo ma semplicemente una persona su cui investire un certo sentimento di aiuto e quindi siamo costretti in politiche securitarie so che si dice questo va nello scontro politico di Tal Shou però qui invece c'è gioco guardate che c'è un gioco il problema dell'infanzia si gioca guardando cosa succede in Nigeria cosa succede di lì non nei fenomeni drammatici quello che diceva credo che sia continuiamo a dire che ci vuole questo come capacità culturale di apprendimento se volete ha fatto una grande scuola di pensiero di ragionamento di conoscenza non sembra un piccolo di sviluppare sostanzialmente lontano questo perché altrimenti lo dite nel libro un sistema neoliberale di governo dell'economia e delle popolazioni fa di segregazione e discriminazione in qualche modo razzializzate uno dei perni del proprio sistema di potere adesso sta venendo fuori anche il razzismo i linguaggi di odio dobbiamo rimettere in circolo invece un'antropologia dei legami della mondialità dello sguardo abbiamo bisogno di avere parametri paradigmi culturali diversi abbiamo bisogno fortemente e se lo si fa non si fa soltanto per elencare le vittime per ragionare su questo abbiamo bisogno fortemente che non diventi politiche assistenziali ecco lo dico perché siamo col Cespi con tutto il lavoro abbiamo bisogno di ragionare insieme abbiamo bisogno che il comune investa in coordinamento politico non lo ritenga in un appendice delle politiche sociali del proprio comune vale anche per Milano e credo che sia una relazione ma non perché siamo qui a dirlo qui di fronte al libro perché ci credo prima profondamente questo vale anche per dare conoscenza ai nostri che vivono nelle scuole cosa sono questi in termini di apprendimento per rimettere in gioco poi la capacità della diaspora certo di essere agenti di sviluppo ma anche la capacità della cooperazione altrimenti capita ancora una volta che viene introiettato il tema della cooperazione internazionale che parte dai disastri se ci sono i disastri allora scatta la logica della cooperazione questo sistema che ormai sta arrivando anche in Italia che bisogna far scoppiare il caso poi scattare come emergenza credo che sia la logica emergenziale abbiamo bisogno ormai di raccontare questo di legami affettivi di modo col quale si vive insieme di cittadinanza aperta plurale inserita continuamente in questi livelli non diventano dei casi semplicemente e questa è la battaglia che tocca anche alle giovani generazioni il rischio è drammatico rispetto a questo se le giovani si fa presa sulle giovani generazioni una mentalità sostanzialmente di separazione di linguaggi che hanno dentro delle anticamere poi lontane però di separazione di chiusura credo che abbiamo bisogno di un investimento forte allora le esperienze che facciamo io dico il polo di accoglienza di ospitalità che c'è qua e se non ci fosse però ha bisogno assolutamente di una dimensione di segnare di dare alla politica questa dimensione forte che è quella di cambiare insomma ci vorrà una legge sull'immigrazione forse si potrà smettere di renderla così quello che succede ai confini i confini che sono i nostri quello che succede dovunque abbiamo bisogno di una politica migratoria che affronti anche legislativamente il fatto di essere cittadini con coraggio io non ci credo che bisogna solo fare il consenso vedere che è limitato e quindi fare politiche riduttive la battaglia fatta contro i decreti di sicurezza non è una battaglia ideologica ha dentro invece un sentimento profondo di umanità che altrimenti diventa un'umanità lacerata frammentata di un grande investimento di carattere culturale di studio di competenza di curriculum universitari su questo però che poi invadano la politica perché non c'è nessun sociologo nessuno che non dice che abbiamo ragione a dire queste cose perché i numeri ci sono sono la percentuale minima a quelli che arrivano richiedenti asilo che verranno adottati con lo schema si sa benissimo questo non c'è nessun studio che non dice questo il problema è che poi il peso che hanno nella lettura politica questa è l'unica realtà diventa irrilevante perché prima c'è la paura rispetto a questo allora possiamo scrivere libri bellissimi avanzati letture tremende il peso politico che hanno queste letture non sono di cambiamento come fa la finanza poi che investe perché il problema dell'acqua il problema dell'ecologia di investimento della biosfera tutto questo ritorna in il rispetto abbiamo bisogno di cambiamento il libro ci chiede questo noi da tempo anche in casa che stiamo dicendo come rendere il problema Africa non il problema ma la lettura Africa come una realtà che dà uno sviluppo anche internazionale mondiale diverso di quello che noi stiamo pensando perché in questo periodo nella globalizzazione le interconnessioni rischiano di scomparire abbiamo bisogno di pensiero ecologico ma per far questo abbiamo bisogno anche di protagonismo e il tema della cooperazione porta dentro il tema della mutualità dell'appartenenza dell'essere della stessa storia umana che stiamo vivendo non sembrano frasi retoriche di etica lontana dalla quotidianità ha bisogno di questa efficacia basta politiche per ma sostanzialmente va condiviso dei percorsi insieme grazie grazie per questa lettura e per questa diciamo chiamata un po' a tutti a non solo scrivere o fare piccoli progetti ma a volere un cambiamento reale e culturale che passa dal linguaggio dal nostro linguaggio quotidiano a qualsiasi azione facciamo cercando di avere un impatto perché ci sia un cambiamento io ringrazio tutti questi relatori e chiamo i prossimi tre che sono tutti arrivati attenzione a queste scale tremende e quindi Andrea Stocchiero Silvia Stilli e Pierfrancesco Maiorino bisogna sanitarizzare un attimo i microfoni e poi vi introduco e poi vado a prendervi anche dei bicchieri puliti perché io faccio la moderatrice l'introduzione ma porto anche l'acqua e i bicchieri prego Pierfrancesco allora io darei la parola a te Pierfrancesco Maiorino se tu ci stai perché così riprendendo anche un po' una chiamata che ci veniva da Don Colmenia Pierfrancesco Maiorino lo conosciamo tutti però è un eurodeputato ed è stato un nostro molto amato assessore alle politiche sociali del Comune di Milano è anche in commissione cooperazione sviluppo al Parlamento e fra pochi giorni tra l'altro uscite con il nuovo patto europeo sull'immigrazione non che vogliamo delle anticipazioni però sicuramente un tuo punto di vista sul dove siamo su come l'Europa debba possa impegnarsi anche per scardinare insomma alcune diciamo equazioni tra quelle per esempio una tra cui quella che vede le ONG come un soggetto inefficace bonista nemico e per ONG intendiamo tutti tutto l'associazionismo che opera sia sul tema dell'integrazione che della cooperazione a te la parola buonasera ciao a tutti grazie davvero per questo incontro per questa occasione ma soprattutto per questo lavoro per questo libro così significativo e utile come diceva Don Virginio prima e devo anche dire poi a Petra glielo racconterò io quando torna sul palco che ho apprezzato ecco ti ho apprezzato l'affermazione uscite con il patto la ritengo anche molto positiva verso i rappresentanti delle istituzioni europee purtroppo non esattamente capace di fotografare la dinamica del funzionamento delle istituzioni perché è la commissione che presenta il patto la commissione europea si avvia il confronto col Parlamento europeo vedremo l'esito di tutto questo lo dico perché secondo me noi siamo di fronte ad una fortunata affermazione della Presidente cancellare Dublino superare Dublino tutto quel ragionamento che è stato fatto nell'ambito del discorso pubblico svolto sullo Stato dell'Unione mercoledì scorso ma davanti a giganteschi punti di domanda sulle direzioni che si prenderanno forse un po' schiacciati dalla dinamica italiana e dalla pressione potente dell'utilizzo politico e strumentale da parte di Salvini e del sovranismo in questi anni del tema dell'immigrazione ci stiamo facendo tutti un film che temo e non mi riferisco certo a questa sede che temo poi alla fine non si tradurrà nella esattezza delle scelte che verranno compiute io credo che al netto di alcuni miglioramenti che sono sicuri produrrà la Commissione in relazione immagino a due grandi capitoli il sostegno ad azioni di soccorso in mare e meccanismi più efficaci di redistribuzione contestuale di coloro che sono titolari di protezione al netto di questo non si affronteranno e non si avrà il coraggio politico di affrontare alcuni enormi aspetti che condizionano negativamente tutto l'approccio politico generale non solo dei sovranisti ma dei sovranisti che sono in noi sul tema dell'immigrazione e sulla capacità dell'Europa di determinare buone politiche il primo aspetto è la politica oggettiva di rafforzamento del principio di esternalizzazione delle frontiere e dunque il fatto che tu sposti sempre di più la frontiera esterna e immagini sempre di più che la politica sull'immigrazione sia una questione di salvaguardia dei tuoi confini e da qui discendono varie cose gli accordi con Erdogan la sconcertante vicenda libica ma pure l'indifferenza con cui si è affrontato nonostante diverse sollecitazioni di tanti nella società civile e grazie al cielo un po' anche nelle istituzioni europee stesse la questione greca tanto per non girarci attorno e fare degli esempi ma potremmo poi farne altri quindi questo primo punto io temo che non verrà affrontato con il sufficiente coraggio secondo aspetto che secondo me non verrà affrontato con sufficiente coraggio è quello che poneva Virginio cioè di chi stiamo parlando nel senso che noi continuiamo a parlare dei titolari di protezione non delle persone delle donne e gli uomini in carne ed ossa appunto stiamo parlando dei titolari di protezione poi sono convinto che se si danno una mossa a Roma a un certo punto rimetteremo in campo l'umanitaria in Italia quindi ad esempio in Italia riestenderemo un po' la capacità di sostegno e di organizzazione dell'accoglienza a donne e uomini che sono protagonisti di processi di immigrazione ma non vedo alle porte la volontà di affrontare l'enorme vicenda costituita dai migranti economici tanto per non girarci intorno cioè costituita come si sa bene in questa sala da tutte le persone che non sono di per sé titolari di una condizione soggettiva che consente loro di richiedere la protezione ma giustamente nel senso che si tratta di una voglia di una volontà lo dico perfino a tutela dell'istituto della protezione cioè siamo di fronte a donne e uomini che hanno la volontà di costruirsi un pezzo di presente di futuro in luoghi differenti da quelli dove sono nati cresciuti dove sono stabilmente diciamo attualmente a vivere peraltro poi mentre lo si fa e mentre non si affronta questo tema si afferma pure che non so nell'80% delle aree lo facciamo nei documenti di tutte in quel caso le istituzioni europee concordamente l'80% delle aree dell'area subsahariana vi è l'impossibilità di dar vita a effettivi progetti nel campo agroalimentare che garantiscono stabilmente il rifornimento la produzione eccetera eccetera o che vi sono sempre di più problematiche riguardanti la condizione dell'infanzia eccetera 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 cioè mentre diciamo questo non ne traiamo le conseguenze ed è il motivo per cui la riflessione che fate con lo studio e che facciamo generalmente sulle questioni del cosviluppo io credo sia sempre di più obbligata in termini prospettici perché è sempre di più necessario rafforzare una politica di sviluppo comune e di sviluppo concertato affinché si possa sempre di più rafforzare la capacità di vivere dignitosamente delle persone ovviamente tutto ciò lo affermo non perché volevo deprimervi un po' ma convinto del fatto che dobbiamo far battaglia politica sempre di più politica accezione alta del termine culturale civile insomma diversi dei presenti ci conosciamo non la farei semplice sul piano dei prossimi atti altrimenti di fronte a quello che è accaduto a Moera non ci troveremmo di fronte a un campo rifatto per verificare se esistono le condizioni per un po' di redistribuzione ma ci ritroveremo immediatamente di fronte a evacuazione e redistribuzione e ricollocamento perché non succede non perché se ne sono dimenticati perché vince l'incertezza e la paura da parte dei singoli stati nazionali che in forme differenti però esprimono politiche convergenti su questi punti e quindi io credo che noi dobbiamo insistere nella direzione di rivendicare politiche più coraggiose sul piano della migrazione e di rafforzare il principio dello sviluppo comune del partenariato sono molto d'accordo con le cose che sono raccontate nelle esperienze citate cioè come esperienze che diventano fondamentali perché non sono calate dall'alto e dunque scommettendo sul fatto che l'Europa è l'attore più significativo sul piano delle regolazioni delle risorse al mondo per progetti di sviluppo e di cooperazione quelle risorse vengano investite quelle risorse che invece sono esse il frutto di una grande scelta storica politica io credo che dobbiamo assolutamente ricordare rivendicare però quelle risorse vengano gestite per scommettere di più sulla capacità di coinvolgimento diretto di partecipazione attiva di coinvolgimento della società civile presente nei differenti territori di sostegno alle forme di vulnerabilità e fragilità e così via nella battuta adesso non so se era del mi pare del ponte che facevi o comunque diciamo delle grandi infrastrutture materiali penso che ci sia questo racconto che per carità in alcuni casi sono indispensabili poi se magari però le costruisci utilizzando pratiche che mettono al lavoro le persone cancellando in quel territorio totalmente i diritti dei lavoratrici e dei lavoratori per fare una grande infrastruttura che mette in collegamento un punto e l'altro dell'Africa giusto per ricordare storie vere non stai facendo cooperazione sviluppo cosviluppo stai lavorando per infrastrutturare un territorio a prescindere dalla questione che riguarda il sostegno alla promozione della persona che è io credo invece la frontiera su cui si deve lavorare sempre di più sempre di più sapendo che appunto le risorse sono importanti e significative sapendo poi che l'Europa non è l'unico attore evidentemente anzi c'è ci sono grandi attori che dal punto di vista diciamo degli interessi che si misurano su questo terreno non credo che Stati Uniti e Cina oggi rappresentino modelli positivi su questo terreno cioè non credo che ci siano altri modelli positivi sul piano dell'investimento per la modernizzazione accompagnato con la cultura della promozione della persona anche se poi l'esperienza della Cina va vista sotto molti punti di vista differenti perché se ti accorgi che oltre a creare un'area portuale in alcuni villaggi si insegna anche il cinese evidentemente non c'è solo diciamo il primo elemento che è produttivo di scambi rafforzamento di interessi eccetera però non penso che vi sia su questo terreno ancora un progetto vincente e credo che su questi punti l'Unione Europea debba invece sforzarsi nel saper essere coerente con i propri principi e i propri valori di fondo società civile vuol dire evidentemente anche organizzazioni non governative non solo ma anche il modo in cui le abbiamo trattate in Europa e nel Mediterraneo per quello che sviluppano dal punto di vista del sostegno al soccorso non promette nulla di buono però invece in tantissimi contesti locali il mondo delle organizzazioni non governative è stato sostenuto da tante comunità locali per sviluppare progetti utili qui e lì mi viene da dire su questo non liquiderei l'esperienza del Comune di Milano come un'esperienza del Comune di Milano o di altri enti locali come un'esperienza banale rispetto alle risorse che sono state messe in campo è chiaro che non è sufficiente quindi siamo di fronte a questa sfida una sfida che secondo me è una sfida che noi conduciamo da un punto di vista spesso di minoranza perché ci sono tanti che non sono assolutamente d'accordo con questo tipo di affermazioni insomma siamo giornate referendarie se si facesse un referendum volete che realizziamo sotto al Mediterraneo a sud del Mediterraneo delle belle aree dove nel rispetto dei diritti umani c'è tutte queste cose che si raccontano ogni volta che venivano raccontate anche quando si facevano gli interventi in Libia evidentemente e che si raccontavano tra di loro anche quelli che li facevano e li immaginavano e poi dopo da lì facciamo tutte le belle pratiche per la richiesta d'asilo siete d'accordo non siete d'accordo il 95% dei cittadini europei a favore ma perché perché questo corrisponde a una risposta anche razionale di fronte a un'inquietudine a un'incertezza che c'è molto significativa questo tema del consenso è un tema enorme nella vicenda dell'immigrazione la condiziona totalmente pensare di poter discutere di questi temi senza fare riferimento alla questione del consenso vuol dire sviluppare io credo un ragionamento che si astrae poi da quella che è la realtà vuol dire fare un ragionamento molto diciamo teorico quasi accademico il problema è che secondo me non è questa la sede per parlare evidentemente di ciò ma ve lo dico affinché sia chiaro il mio pensiero non è su questi punti che costruisci il consenso cioè tu queste cose devi fare e basta devi cambiare e basta le priorità sul tema dell'immigrazione anche se è difficilissimo anche se è difficilissimo e a volte hai l'impressione davvero di andare in una direzione ostinatamente molto contraria molto contraria ma lo devi fare perché altrimenti non farai altro che non cogliere l'enorme questione nella sua semplicità siamo di fronte a donne e uomini punto non a persone da a cui diciamo fornire una formalizzazione nella relazione con il tuo contesto sociale secondo quel che ti pare a te siamo di fronte quindi a un bisogno assolutamente irriducibile nessuno che proprio non lo puoi ridurre di dignità di ma anche al di là delle condizioni più drammatiche su questo ci pensavo proprio leggendo il vostro lavoro in questi giorni anche un attimo prescindendo dai contesti più drammatici io vorrei che discutessimo anche del diritto a scommettere su di sé anche se non si arriva da una condizione di devastazione sul piano ad esempio degli effetti della crisi climatica cioè perché uno non può immaginare per sé e per la propria famiglia quel che ciascuno di noi immagina per sé per la propria famiglia e per i propri affetti cioè di vivere di aspirare a vivere nel contesto che preferisce sia se può essere quello dove è nato e cresciuto che quello non per forza dove è nato e cresciuto cioè c'è una tale gerarchizzazione noi guardiamo così tanto dall'alto la questione migratoria che inevitabilmente poi definiamo delle politiche che se va bene sono di riduzione del danno io non credo che siamo di fronte alla riduzione del danno credo che siamo di fronte invece alla promozione e al riscatto delle persone e penso che su questi punti ci sia da fare un enorme salto di qualità speriamo che nei prossimi giorni qualche prima luce si possa intravedere e a livello nazionale è incredibile la situazione nella quale siamo mi limito a dire questo grazie mi sembra come dire interessante che sul tema della migrazione si debba forse agire perché è indispensabile trovare il consenso ma evidentemente è complicatissimo in questo contesto e allora forse è vero che serve un lavoro culturale ma il lavoro culturale è un lavoro che non ha i tempi di un consenso immediato per purtroppo per prendere delle decisioni in maniera provocatoria e questo su questo un po' tutti siamo forse chiamati a ragionare ripartire dall'Africa per noi significa anche impegnarsi a creare delle condizioni in quel continente che noi abbiamo colonizzato e sul quale noi a volte abbiamo ancora una mentalità da colonizzatori sia che siamo dei politici sia che siamo dei ricercatori sia che siamo delle ONG cioè su questo come dire un po' ci deve essere un allarme perché sempre c'è questo rischio e quindi dobbiamo un po' essere allerta su questo detto questo però da quel continente non è vero che tutti se ne vogliono andare cioè comunque migrare è vero quello che dici tu Francesco cioè migrare deve essere una prospettiva possibile ma non e soprattutto è anche abbastanza difficile il contrario cioè nel senso siamo degli esseri che per cacciare il mammut sono andati in giro sempre cioè siamo ci muoviamo laddove abbiamo necessità ma se possiamo diventiamo sedentari cioè se le condizioni ce lo permettono siamo tendenzialmente sedentari o perlomeno la grande maggioranza lo è perché non è vero che tutti vogliono migrare perché io sfido come dire chiunque di noi a volerlo fare poi quel passaggio lì perché è faticoso perché devi lasciare le tue famiglie cioè quindi come dire è una cosa che si fa alcuni lo fanno e non solo perché scappano da situazioni disastrose ma lo fanno perché vogliono una vita migliore punto per sé e per i propri figli ma in tanti non lo farebbero mai cioè nel senso se avessero delle condizioni migliori nel proprio contesto detto questo io darei la parola a Silvia Stilli che è portavoce dell'associazione delle ONG italiane come dire le ONG classicamente lavorano sulla cooperazione possiamo dire che le ONG forse si sono interrogate e probabilmente continueranno a farlo ed è importante che lo facciano su appunto anche degli stereotipi dei pregiudizi che si possono anche avere nel momento in cui si si fa cooperazione in che modo oggi le ONG criminalizzate sono pronte a ripensarsi a reinventarsi a non quasi viene a dire rassegnarsi all'esistente e cercare nuovi posizionamenti e in maniera ancora più provocatoria mi viene da dire come le organizzazioni non governative potrebbero anche reimmaginarsi al proprio interno per non essere solo quegli attori che fanno cooperazione in partenariato magari con le associazioni con i migranti eccetera ma perché un domani ci sia un direttore di un ONG che è senegalese ma in realtà è un cittadino italiano ha un'origine è straniero in qualche modo perché viene d'altrove ma perché le ONG oggi sarebbero pronte in un'ottica che diceva anche Modugheino laddove ci sono le competenze e non permettere come dire una persona dalla pelle nera o dagli occhi a mandorla semplicemente a capo delle proprie organizzazioni perché così si pensa di aver fatto qualcosa di nuovo grazie Petra buonasera a tutti e sì per rispondere a questa domanda però parto da intanto una condivisione anch'io di io sono la portavoce della OI che fino al 2015 si chiamava associazione alle ONG italiane non si chiama più dal 2015 così si chiama associazione alle organizzazioni lungo di solidarietà e cooperazione allo sviluppo e questa scelta è una risposta noi non siamo ONG noi siamo OSC organizzazioni alla società civile e siamo stati primi e abbiamo imposto all'agenzia italiana e alla cooperazione allo sviluppo che non ci fosse il bando dell'ONG ma il bando dell'OSC allora poi che io sia la prima nella nostra campagna hashtag ONG a testa alta a scrivere ONG è nel riferimento di organizzazioni non governative ma in realtà questo cosa vuol dire oggi alla OE aderiscono più di 100 siamo quasi a 180 realtà in cui però ci sono anche le federazioni quindi siamo e poi le sedi di grandi organizzazioni aderisce l'UISP una realtà sportiva aderisce la lega ambiente che non stanno dentro l'elenco articolo 26 della cooperazione ma che hanno fatto una scelta politica di dire che la cooperazione internazionale allo sviluppo e l'educazione alla cittadinanza globale stanno tra le loro prime azioni prioritari poi aderisce il forum dell'adozione del del SAD del sostegno a distanza e poi aderiscono molte realtà dell'economia sociale e civile organizzazioni sindacali organizzazioni delle cooperative del mondo cooperativo che hanno scelto e scelgono di operare da realtà della società civile all'interno di un processo globale è questo il tema quindi noi questo cambiamento l'abbiamo già fatto direbbe mio figlio che è nato a Roma l'abbiamo fatto senza dirlo tant'è che come scrive qualcuno di questi giornali a cui piace tanto continuare ad attaccarci e testate un paio di settimane fa mette giù l'elenco delle associazioni che pigliano i soldi dall'Europa per occuparsi dei migranti e tra questi eccole qua dall'Arci che è la mia associazione di nascita fino a una serie di ONG poi che questi soldi vengano resti dentro progetti e poi ce lo può spiegare meglio qua lì per Francesco Maiorino poco importa tanto in questo si scrive allora e che si arricchiscano suol dire quindi noi se ci cercate operiamo dentro programmi FAMI in Italia AMIF se diciamo che sono a livello europeo ci occupiamo anche di integrazione di lavoro all'interno dell'ISPRA e dell'accoglienza diffusa e facciamo molte molte altre cose quindi noi non siamo più quelli che facevano i pozzi come giustamente dice Moodoo e basta oppure facevano anche e fanno e fanno tuttora attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e di aiuto umanitario non siamo nemmeno solo esclusivamente quelli che fanno l'aiuto e il soccorso in mare ai miei amici in Mediterranea dicono noi non siamo ONG siamo ANG associazione non governativa va bene tutto però sostanzialmente siamo soggetti a società civile abbiamo operato insieme al foro del terzo settore per cambiare la legge sul terzo settore e abbiamo preteso che la cooperazione internazionale allo sviluppo fosse uno uno dei temi riconosciuti all'interno del codice del terzo settore una definizione qui vuol dire cittadini e cittadini italiani fanno anche questo organizzati in associazioni cittadine e cittadini italiani o che devono essere riconosciuti tali ritenendo ovviamente abbiamo capito coloro che hanno diritto a chiedere che gli sia riconosciuta la cittadinanza la pari dignità allora in questo venendo al cosviluppo e rispondendo mentre rispondo alcuni stimoli anche perché altri prima di me hanno già detto un'infinità di cose segue il filo di Petra rispetto alle organizzazioni della società civile sia cooperazione allo sviluppo e alla domanda giustamente non provocatoria ma reale effettiva giusta che Petra ha fatto allora prima di tutto cosviluppo allora sorrido perché il primo progetto di cosviluppo fu fatto come tale fu fatto dal Cespi da Oxfam e d'Arx la mia ONG tanti anni fa Sebastiano potrebbe raccontare era un progetto di educazione allo sviluppo e per la prima volta fu usato il termine cosviluppo e diffuso in Italia in più parti si lavorò appunto per cominciare il monitoraggio e un lavoro comune a me non ve lo dico la parola cosviluppo mi piace tanto perché a me piace il sviluppo condiviso anche se è lunga perché dentro io ci leggo tanti pezzi e tante cose però va benissimo perché è un termine ormai è un termine internazionale e va bene così però questo è il tema lo sviluppo condiviso è come veniva detto anche prima partnership partenariato di pari dignità e allora già c'è un problema perché come si fa anche riempendoci la bocca come istituzione a dire sto facendo programmi di cosviluppo con le diaspora i migranti quando lì si nega la pari dignità perché lì si nega il diritto di cittadinanza e quindi come dire lì si nega lì si dà un ruolo mentre non si è completato l'iter come ha spiegato qualcuno prima di me un paio di interventi bene prima di quindi questo è il primo tema ma noi siamo in un paese in cui e questo sì le ONG e le OSC cooperazione l'hanno sempre detto e l'hanno scritto negli annali è un paese in cui la coerenza delle politiche è un problema ed è anche un mondo in cui la coerenza e le politiche è un problema perché non c'è l'Europa l'Italia per cui a un certo punto si dice bisogna appunto rendere protagonisti e dare ruolo ai nuovi cittadini alle nuove cittadine e compagnia nella cooperazione internazionale allo sviluppo nell'educazione e sensibilizzazione alle scuole qua e là e poi ripeto incoerentemente altre politiche questo non lo sanciscono e non lo permettono mi piace moltissimo l'introduzione di Petra quanto dice noi non vogliamo ridurre la complessità come Cespi diciamo ci poniamo questo tema e vogliamo uscire dalla categorizzazione per cui i migranti sono cittadini e cittadini che sono migranti con le loro caratteristiche ma sono non solo la mega definizione migranti sono giovani sono donne sono anziani sono tutte queste caratteristiche al primo summit delle diaspore quanti anni fa fu? ecco nel 2017 io intervenni e devo dire non piacque molto a rappresentanti le diaspore presenti ma io lo ridico ancora una volta intervenni dicendo scusate voi siete qui a porre una questione di essere protagonisti della cooperazione internazionale allo sviluppo e condivido ma voi dovete essere protagonisti delle politiche di questo paese voi che vi state ponendo la questione di organizzarvi in associazione non è che vi dovete organizzare permettete in associazione come le vecchie ONG giusto appunto per accedere ai fondi per fare progetti di cooperazione cercate di pensarvi come un soggetto multiplo plurimo e attore del paese in cui siete quindi mettete la bocca sull'accoglienza mettete la bocca sulle politiche sociali su quelle educative su quelle sanitarie su tutto e quindi nascano tante associazioni di diaspore e migranti nascano anche tante associazioni miste e così veniamo a quello che dice Pedro non è che le ONG si devono aprire per fare entrare i migranti se no anche questo è un processo indotto bisogna fare sì che il mondo associativo che nasca il bisogno che nasca l'idea la forza e Mutul l'ha spiegato quando ha raccontato del passaggio non solo dal luogo fisico ma dal ripensamento del progetto qui a Milano l'ha spiegato in modo estremamente chiaro ha detto in breve per loro per chi ha pensato quel progetto il tema è essere cittadine e cittadini di Milano in questo caso che vogliono intercettare altri cittadini e cittadini con un pensiero globale perché Mutul ha una visione globale è in dubbio in tutto quello che ha detto me lo sono appuntato la visione è di cittadino globale allora in questo quindi le organizzazioni e la società civile che si occupano di cooperazione solidarietà volontariato internazionale accoglienza economia sociale educazione cittadinanza globale devono essere duttili e malleabili si direbbe cioè devono essere inclusive aperte e devono essere vere associazioni e non gruppi anche di amici che hanno fatto un percorso motivato forte che si riproducono sempre quelli una volta uno è presidente poi diventa direttore e c'è la ciclicità interna devono semplicemente essere associazioni vere in cui chi ci si avvicina perché hanno come dire un aspetto inclusivo vuole poi essere giustamente anche dirigente di queste associazioni qui questo è quello che io chiedo alle mie strutture socie che lo siano non perché abbiano qualche colore dall'interno perdonatemi ma che lo siano nella reale e vera complessità nel loro programma nella loro visione nei loro obiettivi e nella voglia di uscire dall'essere il proprio recinto allora vado a stringere su quelli che sono i contenuti di quello che avete scritto e uno si legge nella trasversalità nel libro e nei temi che affrontate la centralità della coerenza alle politiche enunciata o meno no? si legge e questa è la citata appunto Maiorino rispetto al proprio paese e rispetto all'Europa è il dato centrale se no non se ne esce dopodiché l'altra questione è quella che l'Africa è indubbiamente come dire il pieno la 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 visione reale di quelle che sono le 3.000 contraddizioni che noi stessi abbiamo creato e le ingiustizie che ci abbiamo portato quindi il tema principale è che si fa con sviluppo per affermare la giustizia sociale nella sua complessità per affermare la giustizia sociale e lo diceva la Monica lo dicevano altri lo diceva e lo spiegava Moodoo in modo molto più semplice di come riesce a me si parte dalle comunità e allora se si parte dalle comunità il mix e la partecipazione inclusiva e la pari dignità sono un dato di fatto perché laddove c'è una comunità lo sono a partire dal luogo dove si vive dai bisogni anche dai conflitti e da tutto quello che c'è allora è evidente che per esempio la lettura nell'Africa la costruzione dei programmi di co-sviluppo non possono essere solo costruiti in Italia dalle comunità in Italia perché allora sappiamo bene che se si va in Niger le comunità in Niger sono molto cambiate perché in Niger le migrazioni sono da molti anni nella circolarità delle migrazioni africane hanno cambiato in Niger diciamocelo come stanno cambiando il Camero un paese che io conosco come hanno cambiato tanti altri paesi africani e continueranno a cambiare quindi con sviluppo non è solo il ruolo delle diaspore all'interno ma è la costruzione del dialogo non la costruzione perché l'Italia è sempre riuscita a costruire un dialogo tra le comunità assolutamente sì io ho vissuto la campagna balcanica come lo dico quello che abbiamo fatto noi altri non hanno fatto dopodiché abbiamo gettato la spugna altrimenti l'Europa avrebbe politiche un po' diverse nei confronti dei Balcani se l'Italia avesse mantenuto quel protagonismo che aveva fino alla conferenza per la ricostruzione di Ancona dopo è scomparso che era tanti secoli fa appunto io ho quasi 60 anni quindi per questo lo dico allora nel chiudere io dico apriamo quindi invito il Cespi primo e invito anche le mie organizzazioni la mia organizzazione ma invito tutti quelli che sono i luoghi che hanno all'interno altre rappresentanze aggregazioni a lavorare su capitoli di quel libro e a costruire non uno non due di presentazioni generali ma eventi tematici su questo sugli stimoli mi dispiace che sono andati via la casa della carità ma gli stimoli del lavoro che stanno facendo sulla laudato sì ci sono tre o quattro possibili come dire strumenti e materiali su cui costruire momenti di riflessione che quello che ci siamo detti oggi con termini più generali diventino più particolari e tematizzati e ci permettono di avere quindi una comune conoscenza magari visione ma comunque un confronto che arricchisce tutti e che forse ci dà delle linee di lavoro per chiudere con una mitica parola che invece col cuo davanti per la società civile italiana che ci ha vinto oppure è riuscita a far dire al Consiglio di Stato è riuscita a farlo dire dalle istituzioni che va tutelata la coprogettazione però impariamo a farla la coprogettazione perché siamo tutti bravi a dire che qua non parlo per Milano ma io dico che quando un ente locale destina dei fondi alla mitica cooperazione decentrata sta facendo oppure quando una regione chiama e dice ah guarda ONG Partners è in quel paese allora tu mi fai questo quella non è coprogettazione non c'entra nulla con la coprogettazione perché la coprogettazione chiude coprogrammazione non è chiamarsi alla luce di un bando ma è costruire una politica tra comunità e allora è ovvio evidente che le vostre e le nostre comunità sono centrali nel fare questo e anche come dire purtroppo costruiamo questa coprogettazione e coprogrammazione a partire dalle vertenze quindi miei cari tutti troviamoci alla legge di bilancio scriviamo gli ammendamenti insieme portiamo gli ordini del giorno insieme perché se tagliano 20 milioni 20 miseri milioni alla cooperazione allo sviluppo ma sono miseri sono 20 progetti da un milione di euro l'uno su tre anni per le organizzazioni della società civile è da ridere ma se tagliano quei 20 milioni o non li aggiungono noi coprogettazione e coprogrammazione non la facciamo se i programmi europei come in indirizzo vanno a accorpare per ottimizzare per tagliare i fondi alla cooperazione non ci siamo e allora ritorneremo a fare pozzi grazie grazie Silvia grazie anche per questa idea di proseguire insomma una riflessione che non finisce qui visto lo sforzo anche che abbiamo messo poi nel riflettere su questo volume ma che potrebbe in effetti tematizzato essere riproposto anche in altre occasioni Andrea Stocchiero collega che ha dedicato un capitolo all'interno di questo volume sull'iniziativa che si chiama il forum delle diaspore ed è un'iniziativa promossa dall'agenzia italiana di cooperazione allo sviluppo è sempre attuale questa questa iniziativa che prospettive che prospettive può avere ovviamente tu che accompagni questo processo e quindi in qualche modo a tratti magari lo lo animi lo però che hai anche una visione da studioso quindi anche critica rispetto a questo diciamo a tutta questa esperienza grazie ok grazie Petra buonasera ci avviamo verso le conclusioni quindi cercherò di non annoiarvi troppo e vengo subito al punto sì nel capitolo che ho scritto parliamo del del percorso del summit delle diaspore però il titolo vuole essere un po' più divisione diciamo così cioè gli spazi di democrazia delle diaspore nel cosviluppo e cioè la questione che 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 pongo è questa è molto semplice e cioè in Italia le migrazioni hanno incominciato ad essere migranti le persone migranti hanno incominciato ad essere particolarmente presenti in numero in distribuzione sul territorio eccetera durante gli anni 90 e io mi ricordo ho incominciato come ricercatore a studiare la questione migratoria in rapporto alla cooperazione lo sviluppo e lo sviluppo precisamente nel 1998 nel 1998 si parlava di emergenza e un po' di integrazione tutto l'aspetto internazionale quindi la questione del ma dove vengono queste persone perché vengono qui quali sono i problemi nei paesi di origine di transito eccetera era posta pochissimo perché la storia migratoria italiana nel senso di immigrazione era molto recente e quindi siamo stati tra i primi mi ricordo che ero venuto qui alla fondazione ISMU proprio per cercare nella biblioteca della fondazione ISMU qualcosa che mi parlasse delle migrazioni in una prospettiva internazionale e non solo dell'emergenza e un po' dell'integrazione e ho trovato pochissimo e quindi bisognava andare a cercare analisi e studi dei francesi degli inglesi cioè di tutti quei paesi che avevano una storia migratoria molto più lunga e quindi dal 98 in poi abbiamo cominciato a ragionare su questo tema e siamo stati tra i primi in Italia dopodiché sono passati praticamente vent'anni e uno dei motivi della scrittura di questo libro qui è che tra ricercatori ci siamo guardati e qualcuno ha detto cavolo è vent'anni che parliamo delle stesse cose ma è possibile cioè è possibile che non ci sia qualcosa di nuovo o addirittura si ritorna indietro perché adesso negli ultimi anni si parla di sicurezza il pericolo dell'immigrato eccetera eccetera cioè proprio una stanchezza anche nostra di riflessione nell'immaginare delle visioni diverse nuove anche positive perché noi siamo dei ricercatori su temi di carattere sociali e quindi siamo anche coinvolti in quello che scriviamo cioè come diceva un economista dello sviluppo chi fa ricerca sociale la prima cosa che deve fare è porre in chiaro che non esiste l'oggettività quindi tu stai facendo ricerca prendendo comunque parte dopodiché analiticamente devi sempre fare attenzione ci sono tutta una serie di cautele però comunque chi fa analisi sociali non è neutro per forza di cose ci mette del suo allora ci siamo messi a riflettere e io mi sono messo a riflettere su le prime cose che abbiamo fatto come studi facendo degli studi e questa è un'altra caratteristica del nostro centro in stretta in stretto collegamento con dei progetti di mobilitazione sociale per cui i primi studi che abbiamo fatto mi ricordo nel 2000 2001 2002 proprio sulla cosiddetta diaspora senegalese è stato fatto all'interno di un progetto abbastanza grosso dell'organizzazione internazionale per le migrazioni sul cosviluppo e quindi ci siamo siamo andati in giro per l'Italia a fare interviste quante interviste hanno dovuto subire in vent'anni queste persone fare delle interviste per conoscerli perché se vuoi fare qualcosa un progetto insieme a loro devi conoscerli c'è poco da fare allora l'OIM ci diceva ma conosciamoli diteci cosa si può fare con loro che aspirazioni hanno che idee che risorse competenze o no eccetera e quindi abbiamo cominciato a conoscere di più i senegalesi poi gli egiziani poi i ganesi poi Costa d'Avorio etiopi eritrei somali eccetera eccetera e in tutto questo percorso alla fine una delle motivazioni principali che ci guidava è li conosciamo perché per noi è importante che queste persone partecipino alla cooperazione perché già lo fanno in maniera solidaristica molto semplice come associazioni già lo stanno facendo non la chiamano cooperazione perché per loro è una cosa naturale quella di aiutare la propria famiglia il proprio villaggio di origine eccetera però sono in Italia c'è chi sta facendo gli stessi progetti nel loro villaggio d'origine possibile che non si riesca a creare un ambiente di democrazia di partecipazione in un settore particolare come la cooperazione e lo sviluppo questa è stata la motivazione principale per cui tutto anche il nostro impegno come ricercatori ma anche come impegno sociale è andato sempre in questa direzione capendo che c'erano una serie di ostacoli rivendicazioni problemi nel rapporto con le altre organizzazioni non governative italiane problemi con i comuni con le regioni Roma Ministero Affari Esteri lontano lontano e quindi abbiamo attraversato tutti gli anni 2000 fino a praticamente gli ultimi 3-4 anni accompagnando questo percorso e vedendo che un po' la volta dal basso veramente dal basso perché non c'era nessuna politica nazionale che parlava di diaspora nella cooperazione non esisteva però dal basso col comune di Milano col comune di Torino con l'ONG Ipsia con l'ONG Arci un po' la volta si stava creando quest'ambiente di partecipazione si è andata avanti su questo percorso e devo dire che questo percorso ha avuto successo perché questo è stato un percorso prioritariamente di riflessione culturale perché se si è arrivati nel 2014 alla riforma della legge di cooperazione nella quale per la prima volta si metteva le associazioni migranti sono tra i nuovi attori della cooperazione è stato perché c'è stato questo percorso quindi per chi è qui in questa sede e con cui abbiamo condiviso molte battaglie è stata una la guerra non si vencerà mai poi tra l'altro non è bello parlare di guerre però questa battaglia qui è stata raggiunta nel 2014 è stata raggiunta grazie alla mobilitazione di comuni associazioni di migranti ONG tra tanti problemi ma è stato un percorso lungo 14 anni 15 anni che ha portato a un risultato chiaro dopodiché nel 2014 riforma della legge bene è citata nella legge l'articolo che riconosce le associazioni di migranti le associazioni di migranti già fanno parte di progetti di cooperazione come partner di ONG finanziate attraverso le ONG bene però alziamo un po' il tiro andiamo sulle questioni di carattere politico come diceva Silvia prima e cioè cerchiamo di capire se è possibile in altri 4-5 anni chissà quanto ce ne metteremo però già qualche luce si vede far sì che le associazioni di migranti siano capaci di o venga data loro la possibilità di parlare di politica in questo caso politica di cooperazione allo sviluppo naturalmente e quindi bisogna riconoscere il merito all'allora direttore generale della cooperazione allo sviluppo del ministero affari esteri e alla direttrice dell'agenzia per la cooperazione allo sviluppo la disponibilità a dire ok va bene proviamo a vedere se riusciamo a strutturare un percorso lo chiamiamo summit delle diaspora dove i migranti si parlino tra di loro si conoscono ancora di più e in qualche maniera si coalizzino così come la società italiana il terzo settore ha avuto i suoi percorsi per creare le diverse reti anche le associazioni di migranti così come in altri paesi europei possono aspirare a creare le loro reti o a integrarsi nelle reti che già esistono e questo percorso si chiama summit delle diaspora è iniziato quindi nel 2016 è proseguito fino a quest'anno il covid ha interrotto la parte finale diciamo ma adesso ottobre sarà l'ultimo mese di questo percorso qui poi bisognerà capire com'è andare avanti ci sono anche domenica c'è un appuntamento webinar anche domenica certo sì no ci sono tutta una serie di appuntamenti ancora a fine ottobre ci sarà l'ultimo diciamo e anche questo percorso io direi è stato un percorso molto difficile perché così come all'interno della società italiana ci sono diverse idee del terzo settore così ovviamente anche all'interno del mondo delle associazioni migranti ci sono diverse idee di sviluppo diverse idee di cooperazione diverse esperienze e quindi anche qui naturalmente non è stato semplice però i summit sono sempre stati un grande successo di partecipazione sono state fatte un sacco di incontri a livello territoriali e si è arrivati al punto dopo quattro anni di arrivare a un embrione di rete di forum delle diaspore per lo sviluppo quindi di rete di coordinamenti territoriali che hanno incominciato a mettersi insieme a trovarsi ovviamente web in particolare in questi ultimi mesi e per la prima volta hanno redatto un documento di carattere politico rispetto alla bozza di piano operativo dell'agenzia per la cooperazione e lo sviluppo su migrazione e sviluppo che è stato presentato in giugno quindi questa rete di coordinamenti territoriali delle diaspore trovandosi in qualche maniera è riuscita a produrre un documento e a portarlo all'attenzione dell'agenzia e quindi poi anche l'attenzione della direzione generale cooperazione e lo sviluppo e dal ministro con la delega per la cooperazione ma ce l'ha o non ce l'ha sta delega la del re ce l'ha adesso ecco perfetto un po' tardi però è arrivata anche questa delega e quindi anche questo diciamo così è l'embrione di un successo naturalmente bisogna vedere se questa rete di coordinamenti continuerà nel percorso si rafforzerà non si frammenterà con tutti i problemi che ci sono nelle costruzioni sociali di questo tipo quindi anche questo diciamo così è un piccolo risultato raggiunto che spero che si coagulerà sempre di più nel futuro e che è importante perché nello scenario politico istituzionale italiano a mia conoscenza potrei sbagliare però non penso di sbagliare molto esistono solo due esperienze di rapporto politico istituzionale strutturato con le persone migranti uno è il coordinamento nazionale delle nuove generazioni italiane sostenuto dal ministero del lavoro bravi e il secondo è il summit delle diaspora dopodiché nel passato voi ricordate diversi ministri dell'interno avevano cercato di lanciare dialoghi con il mondo dei migranti musulmani piuttosto che naturalmente tutte esperienze che sono finite nel nulla queste sono le due uniche esperienze che hanno almeno 5-6 anni di maturità interessante che anche il congi venendo da la problematica della cittadinanza la problematica dello studio perché sono tutti giovani però anche queste nuove generazioni hanno prodotto un documento sul piano operativo strategico dell'agenzia per la cooperazione quindi non solo le associazioni migranti ma anche le nuove generazioni di italiane italiane hanno modificato il loro statuto d'accordo col ministero del lavoro e ci hanno messo la parola cooperazione e hanno prodotto questo documento e stiamo tutti aspettando adesso che l'agenzia ci dica la revisione della bozza se è tenuto conto di queste indicazioni come dove e perché e quindi ci sarà una secondo round di dialogo con in questo caso l'agenzia cooperazione e sviluppo ma poi anche con le altre direzioni generale per raffinare sempre di più questo piano strategico operativo su migrazioni e sviluppo quindi questo è un po' il racconto che ho fatto da ricercatore mettendoci anche qualcosa di personale perché alla fine ci spendiamo molto insomma su questo nel libro nella riflessione e qui chiudo perché non vorrei prendere troppo tempo anche se mi ero segnato delle cose anche del livello europeo perché col mondo dell'energia seguo con Concorde Europe ECRE seguo quello che sta accadendo a Bruxelles però vabbè sarebbe troppo lungo il discorso quello che si dice nel libro e che ha accennato prima Petra è quello di andare oltre la categoria dei migranti perché ci siamo interrogati anche con altri penso anche a un lavoro che abbiamo fatto con Caritas Italiana come Cespi e ci siamo interrogati su tutta questa narrativa securitaria questo mal di pancia continuo questa impossibilità di andare al di là come diceva Colmenia dell'emergenza come se non esistessero 5 milioni di persone qui un milione di giovani che attendono la cittadinanza cioè tutto quanto cancellato nel dibattito nel dialogo culturale e politico noi ci siamo interrogati mi hanno detto ma come allora se non rilanciare con sviluppo perché poi queste sono delle parole possiamo benissimo cambiare con una parola che ci piace molto di più come è possibile andare oltre questo noi pensiamo che sia proprio andando oltre non accettare più queste categorie perché se no ricadiamo sempre nel confronto tra migranti non migranti tra irregolari irregolari clandestini ecco tutte queste categorie fanno male a una cultura che sia veramente quella dell'inclusione sociale e del cosviluppo diremmo così quello che conta è che ci sono persone che soffrono a livello sociale che soffrono disuguaglianze che soffrono marginalità che soffrono vulnerabilità su cui non ci sono investimenti e sono persone che potrebbero avere grandi competenze noi abbiamo fatto appunto un censimento tra virgolette delle competenze di migranti in Italia da spendere sulla cooperazione nessuno lo sa esiste un'associazione dei ingegneri africani in Italia che lavorano anche con delle ONG esistono un sacco di persone immigrate che hanno invece dovuto in qualche maniera perdere le loro competenze perché non gli sono mai state riconosciute e perché sono ridotti a fare quei lavori che sono della nostra segmentazione del mercato del lavoro per cui si ritorna a un problema che è quello dell'integrazione del mercato del lavoro quindi quando si parla di cooperazione non è solo e tanto fare il progettino ma si deve parlare di problematiche del mercato di lavoro qui e nel mercato del lavoro del paese di origine di flussi commerciali flussi di investimento che rubano risorse o non rubano risorse quindi la questione diventa veramente quella della coerenza delle politiche come diceva prima Silvia perché la cooperazione e lo sviluppo è solo un pezzettino dopodiché quello che fa il mondo del rapporto tra Unione Europea e Africa è il mercato il mercato le relazioni di sicurezza militari e la politica quindi o si va ad agire su queste dimensioni qui oppure il settore della cooperazione e lo sviluppo sarà sempre marginale sarà sempre quelli che facevano i pozzi o che fanno qualcosa di più interessante ma però non cambiano le dinamiche dei rapporti economici sociali e politici tra l'Unione Europea e l'Africa e qui dentro ci stanno le persone che sono da noi che noi chiamiamo migranti ma io mi interrogavo per esempio oggi io sono vicentino come si sente dal dialetto dalla cantilena e sono andato a vivere a Roma però nessuno mi ha mai detto tu sei un migrante interno perché poi noi ricercatori usiamo anche queste categorie cioè i migranti internazionali i migranti interni in Africa i migranti interni sono l'80% delle persone che si spostano se mi vedono a Roma mi dicono ma tu vieni dal nord da dove vieni sono vicentino allora tu da dove vieni vengo dal Senegal tu da dove dal Benin tu dove vieni dall'Albania cioè ecco diciamo così un'identità nazionale salviamo almeno questa identità nazionale buona diciamo così che ci qualifica in qualche maniera ma cerchiamo di andare oltre la categoria dei migranti grazie Andrea sì secondo me come dire è un tentativo noi ci rendiamo conto che abbiamo lanciato abbiamo riflettuto su questo tema non siamo ancora arrivati cioè noi stessi nel momento in cui scriviamo nel momento in cui ci esprimiamo a volte ricadiamo in queste categorie perché vorremmo emanciparci ma non è un processo compiuto quindi è come dire è lanciare un'idea una provocazione anche a noi stessi però ci crediamo che questa cosa debba essere fatta cioè che questo superamento culturale possiamo appunto ragionarci di più ragionarci ancora però arrivare veramente a delle politiche che siano cieche dal punto di vista etnico gli inglesi dicono proprio ethnic blind cioè smettiamola di pensare perché su quella su queste dimensioni nel nostro paese il populismo sta stravincendo e allora alla fine uno dice va bene ma allora o non si può parlare di immigrazione se se ne parla è sempre troppo politico troppo non ci si riesce quasi allora andiamo oltre cioè parliamo di disuguaglianza parliamo di di tutto quello che parliamo di anche rispetto per esempio a tutto l'associazionismo delle seconde generazioni le seconde generazioni cioè a tutto quello che è un problema di leadership politica in Italia che potrebbe in qualche modo forse riguardare anche chi ha un background migratorio e che potrebbe fare anche la differenza se avesse uno spazio come diceva come diceva anche Don Colmenia cioè per lavorare tanto sulla formazione anche in quell'ambito e quindi creare anche nuove nuove opportunità soprattutto per la politica sì Silvia deve scappare se vogliamo finire puntuali come avevo promesso come avevo detto sono le sette quasi e mezza forse è apprezzabile se no possiamo se qualcuno ha urgenza di dire qualcosa possiamo darci non più di dieci minuti per per chiudere come come preferite direi che ci ah scusami Bejmir allora bisogna darti un microfono sanitarizzato intanto salutiamo Silvia grazie no no certo vai a Roma quindi grazie quindi a Bejmir scusate non oddiatemi perché forse sono l'unico era solo per dire che credo veramente che sia necessario continuare questo tipo di dibattito perché se di migrazione ne parla tanto a volte troppo di Cosviluppo ne parla pochissimo e ti devo dire che oggi sentendo i vari relatori mi rendo conto che ci stiamo allontanando talmente tanto a cosa vuol dire Cosviluppo che percepisco anche da parte vostra che ne siete gli esperti che c'è un allontanamento appunto della figura del migrante io mi chiedo da migrante e anche da cittadino italiano come possa essere possibile pensare il Cosviluppo senza la figura del migrante ma anche dirla cioè urlarla quindi è stato molto interessante per me perché io nasco all'interno dei bandi di Cosviluppo come operatore ho appena chiuso una esperienza da cooperante tra l'altro cioè ONG pur in Albania e allora mi rendo conto che realmente ci stiamo allontanando forse perché non ci sono più bandi forse perché l'amministrazione nostra anche non mi riferisco solo al Comune di Milano ma anche a livello nazionale ci stanno sempre allontanando da queste tematiche appunto perché magari ci sono le emergenze le urgenze di parlare di sbarchi e di rifugiati che ci stiamo forse un po' allontanando da quello che è stato fatto e da quello che si possa fare insomma quindi auguro che i miei amici colleghi si attivino a organizzare più incontri del genere per capire un po' dove stiamo andando dove siamo insomma grazie io rispondo a questa tua sollecitazione dicendoti che il cosviluppo di per sé non è un concetto etico cioè in questo senso noi come dire siamo disposti a reinventarlo a chiamarlo in un altro modo se occorre o a riempirlo di un nuovo significato cioè a noi piace che ci sia la parola sviluppo ovviamente questo deve sottintendere un'idea di sviluppo con questa particella che significa appunto insieme o di reciprocità però quello che cioè la provocazione per quanto mi riguarda è io non vorrei che tu partecipassi al cosviluppo che concorreremo a fare insieme perché per solo fatto che sei albanese ma perché sei come dicevamo du perché sei competente perché sei un cooperante perché hai acquisito esperienza perché se lavoriamo con i giovani hai un'esperienza sui giovani sei un insegnante sei un formatore se lavoriamo sugli anziani perché hai lavorato con gli anziani se lavoriamo con le donne perché sei ne sai di questione di genere non mi interessa tanto che tu come dire sia per forza o africano o albanese certo è che il fatto che tu lo sia permette a te di avere uno sguardo che è diverso dal mio e quindi questa diversità è bello che ci sia però con quell'idea che concorriamo siamo tutte con le nostre identità cioè tu puoi essere come dire non è che perché sei albanese allora rappresenti l'albanesità o perché io sono milanese mi trovo in un contesto e rappresenterò la milanesità un pochino però come dire io sono io con tutta la mia esperienza poi c'entra anche il fatto che sono nata e cresciuta a Milano e bla 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 cioè quindi come dire è uno volersi riappropriare di competenze e lavorare su delle categorie sociali che in qualche modo superino un po' questa categoria perché anche tutte le politiche che si fanno sui migranti per i migranti con i migranti a volte sono effettivamente politiche di discriminazione positiva e così vengono anche malinterpretate e così creano quella distinzione tra noi e loro allora so che è un tema che sta molto a cuore a Pierfrancesco il tema della casa ok che è veramente laddove quando si lavora sulle politiche urbane locali è un tema dove c'è uno scontro pazzesco noi l'avete data loro ma loro sono ma loro sono albanesi ma loro sono ma loro non sono italiani ma prima gli italiani ma dico ma non c'entra questa cosa qui cioè la casa è come dire un diritto in questo modo va rispettato e perseguito e tutte le classifiche che si fanno perché quella casa vada alla persona X devono essere fatti con dei criteri che non per forza sono lui è bianco è giallo è nero ma sono uguali per tutti e quindi in base a quei criteri ci entreranno il signor Rossi il signor Jolly il signor Modu gay eccetera eccetera insomma questa è come io la vedo per cui sì è un allontanamento però come dire e forse anche una provocazione però perché vuole essere un allontanamento per rinnovare questo concetto e forse dal mio punto di vista non ridurlo a quella cosa lì cioè per me con sviluppo non può essere solo uno sviluppo con i migranti cioè deve essere uno sviluppo che sicuramente generi un cambiamento e un impatto perché se con i migranti che va benissimo anche che sia fatto con i migranti sì sì certo però se nel paese d'origine non vi convoce l'immigrante allora mi chiedo se lo abbiamo ancora di più a livello di cooperazione sono assolutamente d'accordo con quello che dici però in un bando o in un in un bando pubblico dove sono presenti ONG e associazioni per me il sviluppo è quello appunto dove quando parlava Monica di reciclo cittadino sarà sviluppare entrambi i territori se noi non sottolineiamo questo questo fatto del 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 migrante chiamiamolo del del cittadino che ha doppio cittadino di ralto come vogliamo noi perdiamo quelle come dire quella marcia in più nell'attivare nel spendere dei soldi quella cooperazione di un idoneo quella plastica ma nello stesso tempo nell'attivare quel tessuto migratorio qua da noi e nel farlo attivo nell'attivarlo quindi tra quello che capito tra quello che tu dici ti ha in un grande il tuo sviluppo non è importante dove sei basta che sei capace sì ma tradotto in un bando no no lo capisco detto questo se la prassi come dire perché a volte funziona così proprio che tu c'è una discriminazione positiva per cui prendete donne le donne anche no a un certo punto io come donna penso basta cioè la prassi deve essere che comunque prendete anche le donne quindi non c'è bisogno di sottolinearlo ogni volta se la prassi è quella deve essere assunta e quindi come dire il mondo dell'associazionismo dovrà comunque confrontarsi in partenariati con tanti soggetti che comprendono anche quelle realtà lì il fatto di sottolinearlo ogni volta è come dire ok non ci siamo ancora arrivati e in parte è vero e in parte è vero motivo per cui bisogna sottolinearlo però come dire l'obiettivo l'idea è di arrivare insomma un po' in quella direzione e quindi anche perché altrimenti è molto divisivo no? no volevo aggiungere semplicemente un'altra cosa secondo me cioè io ho capito il discorso di Besmir però oggi è doveroso da parte nostra io in Senegal oggi conosco due o tre sindaci ex Giaspora uno di Medina e un altro nel Nassone di Luga eccetera eccetera diventa importante secondo me poi qualcuno l'ha detto noi Besmir in quanto Giaspora in quanto stranieri in quanto come ci vogliamo definire dobbiamo prendere il nostro destino non dobbiamo dipendere da Petra e né dal comune né noi dobbiamo impegnarci politicamente e culturalmente mi spiego se Besmir inizia a tornare in Albania lavorare con il governo sulla politica avere una rappresentanza politica entrare anche in politica qui perché dobbiamo farlo perché quando si parla di co-sviluppo di cooperazione perché qualcuno decida dall'alto allora noi dobbiamo andare verso i luoghi dove si decide allora si che cambiamo qualcosa altrimenti fino a 20 anni saremo ancora qui a dire Monica farai così il comune farai così noi dobbiamo quando parlo di rete delle Giaspore noi dobbiamo fare questo lavoro qui davvero seriamente non le chiacchiere io rispetto molto il lavoro fatto con con il summit della Giaspora ma noi dobbiamo avere ancora prima una rete forte tra noi coesi con un'idea chiara precisa riconoscendo che diversità e ricchezza perché quello che succede in Albania non è quello che succede in Senegal quello che succede in Italia non è quello che succede in Francia ma noi in quanto Giaspora davvero quando parliamo di sviluppo di co-sviluppo economico culturale il nostro contributo davvero deve essere concreto non deve essere assistito da da xx ma si coinvolgerli si ma loro dobbiamo creare qualcosa di appetibile per tutti sia per il nostro paese per il paese di accoglienza secondo me se così facciamo vuol dire davvero davvero qualcosa cambiere altrimenti fra 20 anni di cui io non vorrei ancora essere lì a fare questo bla bla lo faremo ma dobbiamo iniziare adesso io lo dissi a Michelle Cofi recentemente ho detto ma perché non vi candidate davvero adesso ma impegnatevi politicamente con qualsiasi partito abbiamo visto la Lega ai suoi Neger che vanno lì a dire aiutiamoli a casa loro allora dobbiamo andare a Roma a Bruxelles davvero a incidere politicamente secondo me altrimenti non cambia nulla al di là di decidere politicamente le rimesse sono un dato di vero che anche se non aspettano che sia il comune o la regione a poter aiutare le rimesse ci sono e ci sono fortemente ovviamente la Somalia non è uguale in Senegal con lo sviluppo che c'è se si va giù in Somalia quella che ha fatto le rimesse o le persone i commercianti lo sviluppo che si fa è molto diverso questo è un dato di fatto e dobbiamo tenerlo conto non pensiamo che sia solo il pozzo che si fa che funziona o serve quello secondo me la diaspora deve essere presente ed è importantissimo ed è centrale non solo per fare politica è ovvio non diciamo anche che tutta la diaspora deve fare cooperazione perché tutta la diaspora non fa cooperazione c'è chi lo fa e sceglie di farlo e ci sono diaspora che scelgono di non fare ci sono diaspora che scelgono di fare politica e quelli che non scelgono di fare la politica bisogna aspettare che la diaspora insieme debba fare una cosa o un altro io penso questo ma secondo me il sumo della diaspora ha fatto anche delle cose è molto lontano di quella che dovrebbe fare dovrebbe fare ancora altri quattro anni di cammino ma un passettino si è fatto questo è il mio pensiero quello di non dire sempre perché non hanno competenze bisogna anche ricercare l'immigrazione quanto tempo ha vent'anni fa non esisteva nessuno che lavorava sulla migrazione o sulla cooperazione io stesso non ho mai lavorato sulla cooperazione all'inizio ho fatto un sacco di esperienze adesso riesco a pensare o a avere una visione diversa di quella che avevo vent'anni fa il percorso è lungo qua è molto lungo ed è centrato sulla diaspora è ovvio condivido con Beshmirt si parla solo di immigrazione e non di cooperazione purtroppo grazie mille un applauso alla serata ciao Grazie.